Ciao a tutti Brawl Stars e oggi dobbiamo arrivare al massimo 15 iscritti e vi cercherò una cosa speciale. Vabbè, questo qua era il video, però ci facciamo soltanto una partita di riscaldamento. Questa è un po' di trofeco. Perché si blocca? Scrivete questo nei commenti, attacca che Brawl Stars ricevere un cuoricino. Però perché si blocca? Andiamo, è vero, 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 è vero. Questo qua è il video. Raggiungiamo i 15 iscritti e... Raggiungi, allduta. 세상人cu, равvi, coordinated, singas, raggiungi, Grazie per il vostro supporto. Grazie tantissimo. Grazie per il suo supporto. Perché se blocca? Blossax. 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 Ah, e seguiti anche i sax. Per favore. Ho gli occhi anche pure. Quanto devo arrivare a 5 minuti? Per favore. Tutte queste persone che mi state seguendo. Grazie. Ma seguite anche i youtuber tipo Raxor. Eh, vabbè. Però seguiteli che mi fate con dem. Vabbè. Grazie. Ciao. Ciao. Grazie per il suo supporto. Ciao.